Il devuto in pista del propulsore MGU05 sviluppato integralmente da Audi è previsto nei test di precampionato di Formula E a Valencia. Le prestazioni ufficiali parlano di accelerazione da 0 a 100 km all'ora in 2,8 secondi, un'efficienza complessiva che raggiunge il 97%. Audi MGU05 è caratterizzato da un motore elettrico con trasmissione monomarcia e struttura a rotore interno e magneti esterni, assistito da un sistema di raffreddamento ad alta portata e forte di ben 6 fasi per l'ottimizzazione dell'erogazione di coppia. Grazie al raffinato mix di materiali e alla perfetta integrazione del powertrain nella struttura della monoposto, gli ingegneri guidati da Stefan Eicher hanno ottenuto un significativo alleggerimento rispetto all'unità propulsiva precedente. Audi e Tron FE07 è la monoposto dei quattro anelli con la quale Lucas Di Grassi e René Rast lotteranno per il titolo di Formula E che si presenta con un look inedito.